Ciao amici, bentornati in questo nuovo video. Siamo nell'evento breeding e dopo aver generato il primo drago zaffiro, quindi neanche mi ricordo in realtà, Anapa, l'ho solamente incubato, non l'ho tolto perché 21 giorni, evento fortificazione fra due settimane, quindi non mi andava sinceramente di sprecare 21 giorni perché non ho nemmeno molte accelerazioni, insomma, sto messo così e vabbè nella media, quindi non volevo andare sotto la media. Quindi ho generato Anapa, però l'ho fatto inizio evento e quindi mi sono rimasti diversi gettoni. Il mio intento era quello di generare Sechem così da poter fare Apopet al prossimo evento. Però ho pensato, Apopet mi servirà per fare Reynard, poi con Reynard e Avalans farò Glunclo, Oscuro Artiglio, insomma come cavolo si chiama, e ho detto, mi sono fatto due conti, ho detto dovrei riuscire a generare quel drago per ottobre, mi pare. Ho detto no, cioè io fino a ottobre devo stare con i draghi così, cioè o perlomeno non fino a ottobre, fino a luglio, ad agosto perché, fino a luglio perché finché non generi il secondo drago, adesso ho tutti i draghi, per esempio l'ho portati tutti a livello 40, quindi i Garnet, sono diventati Garnet, sono Drop, Tengu, Abraxas, Algor e Tarand. Non mi mancava uno. Quindi tutto questo grazie ad Avalans che ho fatto sia all'evento scorso, però l'ho schiuso a quest'evento. Quindi cosa succede? Che in pratica ho i draghi di livello 40, per poterli portare al 45, insomma al massimo del Garnet, ho bisogno di un secondo drago che appunto è Reynard che mi servirà per fare Oscuro Artiglio, però ho detto insomma fino a luglio, agosto, ho detto sono troppo tempo, troppi mesi, allora ho pensato di ritardare tutto questo di un mese facendo Anapa, perché la combo Anapa più Meaten dà Zaru e Meaten ce l'ho e quindi ho detto perché non fare Zaru e quindi il prossimo mese farò Zaru. Ho dei gettoni di Masti, non avendo sbloccato Anapa non posso cominciare Zaru e quindi andrò a fare Sekem. Mi mancano in evento, sono arrivato a 7000 punti, ma così per caso, perché insomma ho generato Anapa, ho usato ovviamente tutti i frammenti mistici perché, vediamo quanto sono i miei obiettivi, mi mancano 424 punti, quindi devo usare 8480 monete. E andiamo subito ad usare. Dov'è? Sekem. Mi dispiace un pochettino sinceramente usarle perché, sì, autogeneratore. Mi dispiace usarle perché avrei preferito usarle per il Garnet, quindi usare i più mistici possibili sugli Zaffiro e per i Garnet più monete, perché comunque il rapporto è più favorevole per quanto riguarda gli Zaffiro o per usare i mistici. Però pazienza, nel senso, adesso ho queste e le uso perché non prendere i 450 sigilli avendo le monete e potendoci arrivare è una scemenza. Quindi farò così, e sto facendo appunto così, anzi in diretta, per fare un pochettino di Sekem. L'ultimo evento, certo, 143.000 non sarà facile, mi avanzeranno qui circa 7.000, anche 8.000, non lo so, mi sembra. Mi farò forse qualche missioncina stasera, magari anche partendo con 10.000, dovrei cercare di fare in 4 settimane 133, possiamo dire, 133.000 gettoni che non sono affatto pochi, però di solito più o meno ci arrivo sempre, c'è il senso, Zaffiro costa 125, Garnet 143, Zaffiro l'ho fatto per esempio il primo giorno, quindi fare uno Zaffiro, fare un Garnet, cambia solo magari che lo fai o il mercoledì sera o lo fai il lunedì, l'ultimo giorno di evento. Quindi giusto questo. Senza contare che forse sono abbastanza idiota perché parlando, non credendo che ci volesse così poco, ho sforato di molto. Temo di sì, temo di aver sforato di molto. Bene. Sì, sì. Quindi sono molto furbo, sto proprio dicendo l'opposto io, cerco di andare al limite, e invece no. Invece ho fatto 7.5, cioè in realtà ho fatto 7.6, ovviamente 8.8 oramai è impossibile, niente. Ho sprecato 1600 gettoni. Vabbè, pazienza, che devo fare? Comunque, conterò però appunto, ecco stavo dicendo che conterò comunque di arrivare con le monete per fare Zaru, sicuramente durante un altro evento perché le ultime due settimane c'è il doppio drop. Io probabilmente aprirò per poter fare i due draghi smeraldo e aprendo appunto potrei trovare diversi gettoni. Sicuramente poi andrò a aprire più casse nelle ultime due settimane rispetto a questa settimana o magari la prossima. L'ultimo evento della season sarà Breeding e quindi, insomma, si spera che arriverò con i gettoni, ma non è niente, insomma, di impossibile, ecco. Quindi, Zaru, prossimo drago. Per quanto riguarda questo evento, quindi diciamo 7.5, va bene. Rango team di nuovo soddisfacente, perché siamo, nelle ultime settimane siamo sempre stati tra i primi 10, negli ultimi, pare, 4 settimane, sempre tra i primi 10 e nella quintultima settimana siamo stati undicesimi, quindi oramai è appurato. E comunque, beh, 2.35, insomma, ci stanno alle calcagne, però pure quelli davanti, insomma, bene o male dovremmo finire decimi, ma ripeto, poi decimi, undicesimi non è che cambia così tanto. Sono praticamente gli stessi premi. Quindi, bene, sono nuovamente soddisfatto, ma oramai, a quanto ho capito, intorno alla decima posizione, quindi ottavi, noni, undicesimi, anche dodicesimi, ormai è questo il nostro standard da tempo. Direi che per oggi è tutto, se vi è piaciuto il video vi invito a mettere un mi piace, se non siete iscritti iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!